Se è vero come spesso dicono che nel calcio il miglior attacco è la difesa, le prime due piazze del girone H di Serie D non fanno che confermare la tradizione dopo 23 turni di campionato. Se il bitonto capolista sta riscrivendo la storia dei muri difensivi con appena 8 centri al passivo, i 15 gol incassati dal Foggia valgono alla banda di Nini Corda il secondo posto nella classifica generale e nella speciale graduatoria dei reparti arretrati meno vulnerabili. Primo non prenderle, poi vincere spesso con il minimo sforzo e il trend esibito da Anelli e compagni nel corso del campionato. Ben sette sono state infatti le vittorie per 1-0 ottenute dai Satanelli, ultima quella nel derby di Taranto grazie al gol dell'ex El Oasni. Nessuno nel girone H ha vinto tante partite di misura e mantenendo la porta imbattuta, come il Foggia, un'attitudine esibita per la prima volta alla quinta giornata con il blitz del Monterisi contro il Cerignola, diventata abitudine sia allo Zaccheria che allo Iacovone contro il Taranto, mostrata al nono turno a Nardò e ribadita una settimana dopo in casa contro il Grumentum. A completare la serie di successi rosso-neri per 1-0 ci sono anche la vittoria dello Zaccheria al tredicesimo turno contro la team Altamura e il colpo esterno di Francavilla in sinni del 15 dicembre. In sintesi, il 50% delle vittorie foggiane sin qui in campionato è maturato con lo stesso risultato, sintomo di una squadra solida che spesso mette da parte l'estetica per puntare tanto sull'aggressività, quella di Di Masi a Taranto è stata la sesta espulsione stagionale, e sulla pressione a ritmi alti. Il Brindisi, avversario atteso domenica allo Zaccheria, è avvisato. A questo Foggia piace vincere senza strafare nella forma e nei contenuti, ma con terribile efficacia, dote della quale le affermazioni per 1-0 sono il manifesto più concreto.